E siamo giunti allo sport, parliamo di calcio in Serie C, al Del Conero c'è Ancona Pescara, un derby molto acceso e atteso tra le due tifoserie. I mille biglietti sono andati pressoché polverizzati nei giorni scorsi, ma facciamo il punto della situazione con il nostro Massimo Profeta che abbiamo qui in studio. Buongiorno Massimo e benvenuto. Buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione dell'Ascolto. Fabio, hai detto bene perché c'è grande entusiasmo, mille tifosi biancazzurri perché c'erano soltanto mille biglietti, altrimenti sarebbero stati di più a disposizione dei tifosi del Pescara. Ricordiamo la grande esclusiva su Rete 8 domani, la partita in diretta con ampio pre-gara dalle 19.45. La partita avrà inizio alle 20.45, intanto le ultime perché come vedete, Francesco Berardinelli bravissimo perché ci fa vedere la notizia che abbiamo pubblicato, Zeman presente alla rifinitura, insomma chiaramente lo sapevamo, Zeman è stato dimesso ieri dalla clinica Pierangeli, con un giorno d'anticipo abbiamo seguito con comprensibile apprezzione in questi giorni, ricordiamo che ha accusato un malore nella mattinata di martedì, alla vigilia della trasferta di Catania, match di Coppa, poi perso 2-0 il giorno successivo dai biancazzurri, ci sono stati tutti gli accertamenti del caso e quindi insomma si è ripreso, si è ripreso sicuramente Zeman che dovrà però osservare i giorni di riposo, ma lui come lo conosciamo troppo bene, insomma oggi si è presentato alla seduta di rifinitura, ha assistito a bordo campo all'allenamento dei suoi ragazzi, ha anche parlato alla squadra, è andato via qualche minuto prima della conclusione della rifinitura. Domani, mi stai facendo questa domanda, ci sarà Zeman in banchino, questo è un grande punto interrogativo, perché avrebbe già confidato all'ADS dell'Icarri di voler andare ad Ancona, però insomma è chiaro che è stato anche sconsigliato dai medici, vedremo che cosa succederà, comunque la situazione è questa, andiamo a vedere intanto la probabile formazione, perché Brosco oggi si è allenato e questa comunque una buona notizia, perché nel reparto arretrato non ci sarà Pellacani, Pellacani verrà operato dal dottor Tavoglieri lunedì, lessione del menisco interno del ginocchio destro, si è fatto male nella partita di Coppa, per fortuna non sono stati interessati i legamenti, ricordiamo che 15 mesi fa Pellacani si è operato proprio i legamenti del ginocchio destro, quindi i tempi di recupero in caso di menisco del ginocchio destro, questa è la diagnosi, che è stata confermata anche dalla risonanza magnetica, i tempi di recupero sono stimati in 4 settimane, sarà operato, ripetiamo, lunedì. Allora, questa è la probabile formazione, bisogna vedere se Brosco sarà utilizzato al primo minuto, potrebbero essere utilizzati due mancini, nel cuore della difesa, Mesic e Di Pasquale, per Di Pasquale si tratterebbe, usiamo sempre il condizionale quanto mai di rigore, dell'esordio dal primo minuto in campionato, perché finora Di Pasquale, classe 96, che tra l'altro è cresciuto nei giovanili del Pescara, aveva giocato solo in Coppa Italia, in campionato appena 11 minuti nell'ultima partita nella quale il Pescara aveva travolto l'Olbia proprio sabato scorso, quindi Pizzani tre pali, Floriani, poi il dubbio Mesic o Brosco con Di Pasquale, secondo noi Di Pasquale sarà utilizzato, sarà titolare nella formazione di domani, Milani a sinistra, poi Dagasso, Tunio Vealoi a centrocappo, Dagasso confermatissimo, è stato il migliore, secondo noi, dei centrocampisti anche a Catania, dopo l'ottima partita con l'Olbia, tra l'altro impreziosita con il primo gol tra i professionisti di questo 2004, Merola e Cangiano a supporto di Cuppone, perché Cangiano? Cangiano perché a Cornero oggi non si è allenato, sarà convocato, aveva qualche linea di febbre e quindi insomma molto probabilmente sarà impiegato Cangiano. Vediamo invece ora l'Ancona, che non sta attraversando un buon periodo, viene da due sconfitte consecutive, l'allenatore Colavitto, un ottimo allenatore della categoria, è stato richiamato al posto di Donadel circa due mesi fa, meno di due mesi fa, aveva cominciato molto bene, sette punti in tre partite, poi soltanto quattro nelle ultime cinque, nelle quali ha vinto solo una gara, l'Ancona, il derby con la Re Canatese, questa la probabile formazione, non ci sarà soltanto Michael Deramo che è fermo da un anno per la lezione del tendine rotuleo abruzzese di Archie, un classe 2000 che è cresciuto nelle giovanili del Pescara. Peruchini tre pali, sistema speculare, sistema di gioco, 4-3-3, da destra verso sinistra, difesa composta da Clemente, Cella, Pellizzari e Martina, poi il centrocampo Gatto e il play, Saco e la mezzala destra, Paolucci, Lorenzo Paolucci, classe 96, cresciuto nel Pescara, una presenza nel Pescara e tu dovresti ricordarlo perché hai seguito quella partita a Trapani nel gennaio 2015, allenatore Marco Baroni e Paolucci fece il suo esordio in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafira nel settore giovanile, al posto, se non ricordo male, di Selasi, quella partita si mise in grande evidenza a Cristian Pasquato e tu ricorderai perfettamente perché realizzassi l'intervista del post partita con una battuta che è passata la storia da parte di Cristian Pasquato e poi davanti vediamo ancora la schermata tattica dell'Ancona, Energe e Cioffi a supporto di Spagnoli. Ripetiamo, domani inizio ore 20.45, diretta esclusiva in chiaro su Rete 8 con ampio pregara dalle 19.45. Massimo in campo anche il Pineto. In campo anche il Pineto giocherà questa sera alle 20.45 contro la Spal in casa al Mariani Pavone. Il Pineto sta disputando un ottimo campionato, è spesso in classifica, è una delle matricole del Gironi B, ben allenata da Daniele Amaolo, 21 punti in 12 partite, in questo lasso di tempo ha perso soltanto una gara lo scorso 2 novembre nel recupero di Olbia e viene da 6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e altrettanti pareggi. Pineto Spal questa sera alle 20.45. Pineto Spal in casa alle 20.45.